Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019 Pronti per il Gran Premio di Francia sul circuito di Paul Richard Allora fate un po' di prove libere L'auto sembra andare bene Vabbè anche qui sul circuito francese di solito andiamo discretamente bene Perché ci appoggiamo con estrema leggiadria e sportiveggianza tra i curvoni Speriamo di confermare le buone sensazioni positive che come detto ho avuto nelle prove libere Ora però bisogna vedere proprio sul tempo come andiamo Quindi concentrati per questo giro di qualifiche Non dice niente Ah ok, strappisolato Le squadre stanno provvedendo alle modifiche dell'ultimo secondo Prima che si accendano le luci verdi e inizi la sfida per la pole position Non è serenissimo, il meteo dovrebbe essere comunque con pista asciutta Ma non è serenissimo Per quanto riguarda le componentistiche non le ho cambiate Quindi siamo con componenti un pochino usurate Ma come detto ragazzi fino a quando non riusciamo a prendere quelle nuove Qua dobbiamo tirare avanti con queste Ne abbiamo anche da sostituire Però siamo ancora diciamo ad inizio campionato Quindi comunque dai concentrati Grazie a tutti Grazie a tutti Bene così Bene così Bene così Se c'è chi ha fatto meglio maledizione Porca miseria In realtà pensavo di essere andato molto bene in quelle curvone Abbiamo perso qualcosina E' ben fatto insomma Questa posizione potevamo far meglio Abbiamo fatto una prima parte di giro molto molto buona Nel finale invece siamo un pochino per... Guarda Max Verstappen Maledetto Aspetta è andato bene quindi... Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni Vi aspettiamo Qui va benissimo diciamo la nostra Ferrari Forse ho fatto qualche errore troppo in quei curvoni Dio no Nei curvoni bene Poi nelle ultime soffriamo un pochino di più Vediamo comunque in gara signori Con estrema aggressività Cercheremo di recuperare qualche posizione Sperando che anche Sebastian Riesca magari a frenare un pochino la... La prepotenza di Max Verstappen Sarebbe un'ottima cosa Guarda anche meglio signora Le dirò anche meglio Ci proveremo eh Visto che come detto Canada Anche questo circuito francese Spesso ci è benevolo Rispetto ad altri che invece faremo dei danni Vediamo se c'è stata qualche variazione Eh niente E proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel Proseguendo lungo la griglia Queste le posizioni Gasly Butler Lo scienziato E Norris Eh la fregatura è che davanti abbiamo anche le due Mercedes che vanno forti Così come di lato abbiamo la Resinzion La posizione di partenza è ottima Vediamo se riusciamo a migliorarla in pista 5 no Facciamo 6 6-7 6-7 5-8 No forse 5-8 potrebbe andare bene Anche se Eh dipende dagli altri Però per il momento forse potrebbe anche andare bene Questa benzina Benzina proviamola Non mettere 13,5 E Vediamo ragazzi Voi come sempre mi raccomando Like e condivisioni Per supportare serie del canale Seguite anche sul secondo canale Ci sono altre serie Twitch Instagram Insomma Seguitemi E siate sportiveggianti Pronti comunque per il Gran Premio di Francia Dai Occhio Contatto con Lucas Ma ci sta intanto Attenzione Guarda lì davanti Sebastian Grande Seb Che si va a prendere la prima posizione Se noi riusciamo Uh Grande Grande Così Di controsterzo Signori Di controsterzo Andiamo a prendere Devon Attenzione A Gasly E Attenzione Lì davanti Perché Max Subito Si riprende O prova a riprendersi La posizione Però per me Converrebbe vedere la strada Invece di vedere là davanti Aspetta che qua Noi andiamo a cannone Comunque Qua noi Sprezzanti del pericolo Ho fatto fregare Ho fatto fregare Sebastian Quando mai Seb devi essere più aggressivo Però Mannaggia la miseria Aveva fatto una partenza Devastante Ho fatto Bruciare da Max Vediamo se Magari adesso in scia Riesce a recuperare Perché comunque La Ferrari È un motorone Uuuuh Madonna Come abbiamo perso Il posteriore Io devo essere molto aggressivo Dobbiamo fargli scappare Signori Se no non li riprendiamo più Vai vai Grande così Grande così Eh non lo era Fidati E mo andiamo a più Anche Seb Madonna come siamo usciti Prepotenti Mi tengo un po' più largo Perché ho visto che Seb L'aveva fatto una mossa Un po' pericolosa Dobbiamo cercare di non perdere tempo Dietro a Vettel Dobbiamo subito Ci stiamo avvicinando Alla finestra Del pit stop Monteremo Aggredirlo Spito di cattiveria Dai dai che siamo vicini C'è una nuova strategia disponibile Mo me la devi dire Al settimo Va bene Va bene Va bene Levate Levate Porca troia Eh ho dovuto fare delle traiettorie un po' Sportiveggianti signori ma Tra cambio strategia Vettel che Potrebbe sempre risultare pericoloso Una mappia max Una mappia max La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo Presto dovrai ridurre i giri del motore Così Iniziamo Immaginare Abbiamo pista libera Perché prima comunque c'era Sebastiani che ci metteva un po' di tensione Ora magari non alzaremo velocissimi Perché non abbiamo più La miscela grassa Ma vorrei far riposare un pochino il motore Giusto una punta Occhio che se va Il DRS Aperto quindi Facciamo questo giro così E poi il prossimo Rimettiamo la miscela grassa Dobbiamo rimanere concentrati Io qua perdo tanto In quelle curve Scalo di più ma Se non scalo Soffriamo un po' di Sottosterzo La quindi Ne tocca Vaimo con la grassa Aia Attenzione a Vettel che arriva di gran sportiveggianza Portandosi dietro tra l'altro le due Mercedes E non solo Una Renault mi sembra E Weber Su McLaren Stanno tutti là Cazzarola Un po' di rischi Ma ce ne dobbiamo Prendere i rischi Se vogliamo provare Andare a Prendere Max Per forza di cose Bisogna rischiare Abbiamo finito anche La carica Tocca abbassare un po' adesso Voglio mostrare un po' più caudi qua Comunque Abbiamo Abbastanza Lenti in queste curve Vabbè Vabbè Come è giusto che sia Ci sono alcune curve dove guadagniamo Altre dove perdiamo E qua la faccio un po' di merda In realtà Mi preoccupa Seb Qui dietro Mi preoccupa tanto Che si sta facendo coraggio Perché noi in realtà ci stiamo Tenendo Bene o male Orca Troia Alla stessa distanza Da Max Significa che Alcune informazioni Su Battler Sta rallentando A quanto pare A qualche problema Con la vettura Si sta avvicinando Cocio Sì Sfruttando il DRS Si è avvicinato Tanto Sebastian Noi siamo Un secondo e mezzo Da Max Dobbiamo togliere Quel mezzo secondo Per poter Utilizzare Il DRS Pure noi Ma non è Facile Attenzione Che rientra Rientrato anche Sebastian Dai dai Vediamo Signori Vediamo Completa il giro Nel minor tempo Possibile Cannone Adesso Concentrati E' qua che ci giochiamo Il gran premio Possiamo perdere La posizione Su Fettel Possiamo guadagnarla Su Max Può cambiare Tutto Quindi dai A cannone Maledizione L'herz È problematico Va bene Va bene Vai di finezza Vai di finezza Allora Stacca tutto qua Che la miscela Facciamo rifiutare Un attimo Il motore Ok Orco 2 Meno male Che hanno messo Sta cosa Però mi sa Che mi ha rallentato Comunque Un pochino Un pochino Mi ha rallentato Attenzione Sto vedendo Verstappen Eccolo lì E niente Eh baccatroia Ok Evita la linea bianca All'uscita dai box Se l'attraversi Ci becchiamo Una penalità Per guida pericolosa Abbiamo perso Un po' Eh Un po' Troppo Porco 2 Potevamo guadagnare Ma Penso che quel Piccolo rallentamento Quando è passata Che era una McLaren Mi sembra di sì Mi ha fatto perdere Un pochino Devo cercare Di avvicinarmi Per poter utilizzare Il DRS Uuuuh E va a fondere Max Ciao caro Ciao caro Grande così No Safety car Puttana La troia Oddio Che sto fa Aspena Vabbè 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 Va bene Allora Buona la cosa che si sia ritirato Verstappen Signori sono grandi puntoni Noi eravamo a meno 24 Se qua vinciamo Se qua vinciamo E Verstappen Come detto Non è arrivato Perché non è neanche da box Quello è proprio ritirato Ritirato Eh io più di questo Non posso fare Andiamo a più uno Però Ocio Perché adesso la safety car Andrà a ricompattare Tutto il gruppone Quindi Ocio Vabbè Vabbè Ci vediamo Quando rientra La safety Il problema È dato anche Dal fatto Che Ecco Il motore Sembra in cattivo Stato Preparati A un calo Della potenza Non avevo pensato Effettivamente Al fatto che C'era Pierre Gasly Che doveva Ancora Porca Traia Vabbè Ci vediamo Dopo Cioè Io comunque Dovevo Andar via Prepariamoci a riprendere La lotta La safety car Rientrerà Durante questo giro Quando gli avversari Accelerano Ricorda che Non puoi superare Finché non viene esposta La bandiera verde La safety car È in questo giro Vai vai Teniamoci pronti Signori Perché mancheranno Tre giri E Il DRS Si potrà utilizzare Solo all'ultimo giro Quindi Dobbiamo stare subito Vicini a Gasly Dai biondo Lo so che ci vuoi fregare Dai siamo ripartiti Meno peggio Di altre volte Vai vai Eh noi signori C'avevamo la prima posizione Gasly è stato fortunato Con il pit E noi ci ha rallentato La safety Ma Ma che mix 2 Qua dobbiamo Volare Uuuuh Grande Così Abbiamo rischiato Il frittatone Ma signori L'abbiamo portato A sbagliare Bello Io quel piede Non lo alzo Puoi dire lo stesso Dai Eh la Eh la eravamo in scia L'abbiamo L'abbiamo Fatto staccare Troppo Tardi Siamo Stati anche fortunati A non colpirlo In realtà Ma Eh signori La fortuna Aiuta gli audaci Mo dai 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 Due giri Mancano Anche Seb Dovrebbe superarlo Anche Seb Per fare una cosa Fatta bene Abbiamo carburata Sufficienza Per soli Due giri Il fatto è che Non si può usare il DRS Questa cosa In realtà Ci aiuta a noi Adesso L'ultimo giro Poi Sarà da soffrire Un po' Cerchiamo di sfruttare Il motorone Ferrari Cata roia Anche quello Mercedes Non sembra essere Pessimo Però Eh Gas Li riesce a tenere Però Eh Ti fiamo anche Sebastian Signori Ti fiamo anche Per Seb Che è stato Un po' Molliccio Contro Versappen All'inizio Si è fatto Fregare Dopo che aveva Fatto un'ottima Partenza E quello che Un po' Dispiace Adesso Adesso Sono cazzi Adesso sono cazzi Eh lo so Mi sono buttato Un po' Un po' Sportiveggianza C'ha ragione Però Sai che Seb Si fa pure Si fa pure fregare Perché vedo Nel frattempo Sto dando un'occhiata Anche alla minimappa Lo vedo un po' Troppo Incollato All'altra McLaren Molto distante Sebastian Vabbè Pensiamo a noi Sti cazzi Se riuscissimo a fare Anche il giro veloce Insomma Sarebbe una bella Cosa Dai e comunque Dai e comunque Grande così Canada Francia Grandi prestazioni Per la nostra Rossa Signori Grandi prestazioni Un'altra straordinaria Vittoria Della Ferrari E andiamo in testa Al mondiale Più famosa al mondo È una grande vittoria Per una grande scuderia La Ferrari Non ha deluso Le aspettative Grande così Grande così Andiamo a vedere Anche se abbiamo fatto Il giro veloce Sì nel finale Ci siamo Ci siamo presi Oggi non sono mancate Le dimostrazioni Di talento Luca Ma chi è stato Il pilota del giorno Secondo te Oggi Nico Hülkenberg Ha corso una gara straordinaria È stato aggressivo Nella guida E ha saputo sfruttare Ogni occasione Di sorpasso E passiamo ai costruttori La Ferrari sale Al comando In vetta La classifica Bene Luca Guarda che classifica Più uno Per noi Grazie a tutti Per averci seguito E arrivederci Alla prossima Dai e Andiamo avanti Vediamo se Qualche sconticino Almeno Facciamo le ultime Migliori Che ci sono rimaste Hai visto Di sicuro Sarà una gran soddisfazione Hai voglia Hai voglia Primo nel mondiale Come ti senti Mi sento di essere a casa Con quale Cattiveria Ehm Sì proprio Con quanta arroganza Presi che il tuo rivale Abbia imparato qualcosa Dal vostro duello Ah Che cattiveria Avrà capito Che non deve starmi Tra i piedi Boom E la Ferrari È pure contenta Vabbè Ci sta Ci sta Eh si creano Un po' di Frecciatine All'interno Del team Attenzione che qua Andiamo a Rivedere Il contatto Allora Allora Avvia 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 Posizione di gara Prevista Terzi Vabbè è onesto Qualifica Sesti Ci può stare Se io ti butto Un primo pilota E soprattutto Il pit stop Boom Velocità di miglioria Non ce ne frega niente Bonus gara Potrebbe servire Se cambia il regolamento In realtà Però per il momento Non ci interessa Magari possiamo Provare ad azzardare Una cosa del genere Tanto per vedere Dove andiamo a finire Allora Velocità di miglioria Come detto Non ci interessa Bonus Magari Se riesce a buttarmi Un più No eccessivo Ok lo so Vabbè scusa Riproviamo Scusate Rischiamo Ok Preciso Signori Preciso Allora Andiamo a migliorare Anche Le batterie E La prossima Sarà Il cambio Ce la facciamo Non ce la facciamo Però Questo è quanto E poi dovremmo Prendere anche Dei componenti In più Comunque Va bene ragazzuoli Io a questo punto Direi che ci possiamo Salutare qui Con questo episodio Come sempre Asciate like Condividete Seguite su tutti i social Instagram Twitch per le live E sul secondo canale Dove trovate anche altri giochi Ci vediamo alla prossima Saluto a tutti Da quel taleale Ciao